Lo sai che sei? Ora lascio un bel like e ti andrò a dare un codice per una skin assolutamente Beh ti mostrerò anche la skin Quindi se vuoi ricevere questa skin ti do 5 se mi vado a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like In questo momento se vuoi ricevere anche tu una skin guys da parte mia Beh ragazzi arriviamo ora a 100 like Perché a 100 like sotto a questo video Ve andrò a rilasciare un codice per una skin Appunto la skin che vi ho fatto vedere poco fa E ve lo lascerò esattamente qui sotto in descrizione Quindi controllate la descrizione Beh ora andiamo a fare il regalo ad uno di voi Chi mi segue sempre e che c'è in live Quindi andiamo a regalare questi emot regalo per gli amici E beh lascio ultimi se tu vuoi avere questi emot da parte mia Quindi c'è ragazzi Bye